Abbiamo preso questi qui che sono in realtà delle piccole pizze con la salsa e il formaggio da fare e io in giù di media valore di farle, secondo me sono super mega buone! No, il sugo si deve fare, il formaggio! Eccole qui, sono delle vere e proprie mini pizze, qui abbiamo il sugo per condirle, noi abbiamo il formaggio, si sfila, strips cheese, quindi le strisce di formaggio e ora faremo la nostra pizza qui insieme a voi e vi farò aiutare da baby cute! Ci organizziamo un attimo per poterla realizzare e vi facciamo vedere la nostra pizza irlandese! E poi vi faremo sapere qua! Siamo ancora in hotel e ci siamo improvvisati il nostro banco di lavoro! Allora, Jody procedi a versare la salsa! Bravissima! Ecco, le nostre pizze sono pronte, guardate che sono buone, belle, non abbiamo la possibilità di scaldarle nel fornetto e andiamo ad assaggiare, io e Jody facciamo sapere come sono e anche zigghi! Per me, ma anche no, quello che non mi piace è il sugo, è troppo acetoso, forse scaldata è un po' meglio, a baby cute ti sta piacendo, per me è un no gigantesco, per te? Non le piace! E questa è la nostra piccola recensione di questo prodotto qui, io non lo comprerò più, assolutamente! Voglio la pizza italiana buona! Ah sì! No amore, poi la facciamo insieme, ma questa non è pizza! Tu Ziri che ne pensi di questa pizza? Ma insomma, c'è del ketchup sopra e basta, poi se si dovesse riscaldare forse, però boccia! 2 no è un sì, vincono e no, e quindi sta dalla larga da questa pizza, se venite al dubbino! Non soppratela! Ciao! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Grazie a tutti.